Coordinati dal procuratore della Repubblica di Lamezzaterme, il dottor Salvatore Curcio, del sostituto procuratore, il dottor Luigi Maffa, i finanziari del nucleo di polizia tributaria di Catanzaro hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di una persona indagata per il reato di violenza sessuale aggravata. In particolare a seguito di indagini eseguite dalle fiamme gialle sono emersi alcuni episodi di cui si è reso protagonista un uomo di Lamezzaterme, già consigliere comunale del disciolto comune Lamezzaterme, il quale avrebbe in più circostanze rivolto pesanti attenzioni sessuali nei confronti di una ragazza minorenne all'epoca dei fatti, poco più che 14enne. Le successive attività investigative disposte dalla procura della Repubblica ed eseguite dai militari della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno confermato il quadro accusatorio che all'esito delle ulteriori indagini ha determinato il procuratore della Repubblica ad emettere il provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti dell'ex consigliere comunale.